insomma far rettono era un po' che non ci sentiva era un po' che non ci vediamo sentiamo peraltro ho letto un messaggio della direzione di White Radio che qualcuno ha lasciato aperto nel temporale di ieri la finestra del nostro studio favorendo l'allagamento quindi non è detto che ritorneremo in trasmissione prossima stagione perché questa è la puntata di chiusura della seconda stagione in realtà siamo a 30 puntate e 15 per stagione quindi a ottobre dovremo iniziare quella nuova forse a questo punto sì non so se noi ci vogliamo boicottare siamo vicini alla verità e ci vogliono boicottare l'unica soluzione che mi viene l'unica cosa che mi viene in mente l'unico vero motivo perché lasciare aperte la finestra durante un tempo reale io ieri ho lasciato aperte i finestri della macchina quindi lasciamo perdere però sicuramente non siamo stati noi non sappiamo chi è stato ma è chiaro che è stato fatto per boicottarci comunque mi sembra evidente è evidente è l'unica spiegazione plausibile volendo usare ma non è complottismo è la verità semplicemente non si tratta nemmeno di complottismo no 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 è proprio l'unica verità possibile infatti senti Parretti allora appunto come dicevo prima abbiamo registrato l'ultima puntata di White Noir di questa stagione parlando dell'anonimo fiorentino perché ci siamo voluti fermare prima del processo a Pedro Pacciani diciamo perché poi inizia tutta la storia legata ai processi e non potevamo interrompere infatti infatti quindi poi partiremo con i processi dopo alla terza stagione però diciamo la storia delittuosa del mostro l'abbiamo raccontata tutta ci sono volute due stagioni 30 puntate però diciamo gli elementi sono tutti in gioco poi dopo parleremo anche dei processi di quello che emergerà dai processi quindi volendo fare un sunto diciamo volendo fare un così per chiosare dopo 30 puntate intanto se ne pensi della trasmissione e questo lo chiediamo anche ovviamente agli ascoltatori e chi ci sta guardando se deve essere cambiato qualcosa quindi chiaramente siamo aperti a consigli però ecco al di là di questo la storia che stiamo raccontando che idea ti sei fatto in generale ripartendo da capo che è quello che abbiamo fatto noi cioè ripartendo dal 51 e rileggendo la storia anche non solo sul mostro ma in generale su quegli anni perché abbiamo parlato di tante cose poi guarda senza presunzione davvero senza presunzione abbiamo fatto una cosa stupenda scherzo allora credo che ora le battute a parte credo dateci i consigli non li ascolteremo quello è un altro discorso abbiamo fatto abbiamo voluto fare quindi parlo prima quella di livello musicale non c'è gli date perché decide Parletti lì è dittatura assoluta non è che dittatura assoluta il dittatore della della selection della playlist quindi no vabbè allora credo abbiamo creato fatto qualcosa di interessante comunque non potevamo già dall'inizio questo lo sapevamo già dall'inizio dire niente di nuovo perché comunque sul mostro di Firenze è stato detto tutto e probabilmente anche troppo e senz'altro anche da persone che ne sanno tanto più di di me sicuramente di te un po' meno perché magari tu sei più informato di me sugli atti sui fatti sulle cose però ecco diciamo che alle patagine di radio ci sono tante persone che abbiamo conosciute personalmente ci sono appunto persone che hanno investito molti anni dietro alle indagini agli atti quindi ne sono più di noi non potevamo quindi dire niente di nuovo però potevamo destrutturare la storia e ristrutturarla in un altro modo e quello abbiamo fatto e secondo me è carina l'idea non è che siamo siamo un altro tipo di voce in questo coro molto grande e comunque dare un ordine cronologico può anche far leggere le cose sotto altri punti di vista un punto di vista molto importante che è quello per cui a me piace particolarmente questa trasmissione è che l'ordine cronologico ha favorito il poterci far parlare e il poter fare dei focus su quello che succedeva in Italia in quegli anni e mi ha anche riappassionato sono sempre stato un po' appassionato specie degli anni di piombo però ecco ultimamente o anche l'altro giorno mi sono rivisto il film su Peppino Impastato perché poi c'è anche ogni avvenimento che avviene in Italia in quegli anni va visto secondo il punto di vista di tutti quindi anche chi viveva la tragedia Moro dal punto di vista dell'emarginato del paese emarginato quindi paesino di provincia in Sicilia che combatteva con la mafia che ha un punto di vista probabilmente molto diverso e gli arriva una realtà diversa arrivava una realtà diversa da quella che magari poteva arrivare a noi e quindi è interessante aprire tutto tra l'altro mi sto leggendo anche dei libri uno è La morale anarchica è un libro che lo si può interpretare anche come il libro filosofico oltre che base di un movimento che poi è stato ed è politico e poi mi sono andato a rileggere anche delle che chiaramente questo mi ha riaperto a leggere quel librettino alto così che è il capitale di Marx che mi sto rileggendo perché è sempre un bel leggere detto questo diciamo che ti stai preparando per sostituire la Schlein comunque non ci siamo dati per vinti ma no a parte che non entrerò in politica mai nella vita e le recenti elezioni di Poggio Accaiano dove io non ho votato perché non abito a Poggio Accaiano ma è il paese di cui sono dove sono nato dove ho vissuto per 30 e più anni quindi chiaramente c'ho un affetto e un'attenzione verso Poggio Accaiano a vedere le elezioni di Poggio Accaiano mi convince ancora di più e se parla di un paesino di 10.000 anime a non entrare in politica però dovessi farlo questi libri magari porterebbero a creare un vero partito sinistra semmai ma non è questo neanche questo l'obiettivo perché non credo che la morale anarchica non è che non credo sono certo che né la morale anarchica né il capitale di Marx né film come Il Banchiere Anarchico né trattasi di quella tipologia che mette come mette in primo piano l'uomo e non l'essere umano e non il capitale economico credo che nessuno di questi possa essere una politica adattabile al PD che continua a essere un partito non di sinistra no non di destra senz'altro ma anche di sinistra anche con l'Hashlein onestamente secondo te proprio parlando di politica perché poi abbiamo visto il contesto di quegli anni soprattutto ci interessava e l'abbiamo detto spesso capire anche meglio in quegli anni come si viveva aiutati anche dalla musica che te passi e parlando anche in generale di quello che erano magari degli eventi importanti di quegli anni sia da un punto di vista politico sociale ma anche di costume abbiamo parlato spesso di quegli anni attaccandoci alla musica come cambia la musica perché se si sente la nostra trasmissione partendo dagli anni 50 c'è una rivoluzione totale però da un punto di vista politico secondo te come si inquadrano questi delitti nel senso perché sicuramente dal di là poi delle motivazioni di questi delitti però si inseriscono all'interno di un contesto di grandissimo cambiamento secondo me perché sono anni comunque dal 68 in poi di grande rivoluzione sociale e miglioramento delle condizioni ad esempio della donna di tanti diritti che vengono riconosciuti però sono anche anni di grandissima tensione secondo me questi delitti secondo te si incastrano in un ragionamento del genere oppure comunque sono isolati nel senso il mostro di Firenze chiunque ha fatto i delitti una sua idea politica ce la doveva avere questo sicuramente però secondo te è una motivazione non c'è assolutamente un movimento politico neanche per neanche lontanamente chiaramente chi li ha delitti chi ha effettuato i delitti senz'altro una politica come tutti anche chi non vota ha una collocazione politica e mi viene da pensare che se fosse più vicino alla destra avversiva di quegli anni nonché ad altri difficilmente un pensiero politico che predica l'uguaglianza il diritto l'amore il rispetto e la libertà scaturisce una forza così estremamente all'opposto come quella del mostro di Firenze quindi detto questo non credo non sono direi con sicurezza non sono delitti con movente politico non c'entra niente il movente politico magari c'entra chiaramente c'è una malattia di base una psicopatia può essere una persona regolare e normale per compiere i diritti quindi senz'altro c'è c'è qualcosa che poi si è scaturito da una società dove il l'omicida o gli omicida non si sentissero proprio agio e quindi ma questo non è il problema della società è il problema dell'uomo e basta peraltro sì è vero ci sono molte rivoluzioni in quegli anni lì sui diritti che tutt'oggi mi sento di dire non sono ancora state vinte stiamo registrando questo ultimo approfondimento della trasmissione e si è compiuto e abbia stato scoperto da poco il cadavere di una ragazza dove peraltro si è parlato anche troppo e anche troppo della vita privata di lei e del suo ex ragazzo che l'ha uccisa con incinta peraltro di sette mesi se non sbaglio del bambino non voglio dilungarvi perché se ne è parlato fin troppo e non è neanche giusto secondo me buttare ai media in pasto ai media la vita privata di una persona che non c'è più e di un criminale detto questo diciamo è un contesto lo fai prima perché questa ragazza è scomparsa e quindi cerchi di fare in modo che se ne parli il più possibile per ritrovarla quando si scopre che è un delitto e quindi c'è un motivo di cronaca nera bisognerebbe fare un passo indietro invece come spesso avviene in questi casi è proprio lì che aumenta ancora di più l'interesse mediatico e giornalistico nella vita privata di queste persone che da una parte può aiutare anche a fare in modo che questi fatti non si ripetano però dall'altra diventa un po' morboso e secondo me poi non aiuta fino in fondo alla risoluzione di questi problemi si continua a parlare delle vite delle persone a dire povera sta ragazza si continua a non esserci a livello culturale informativo dei sistemi che aiutino a prevenire queste cose qua cioè innanzitutto noi maschi dovremmo farsi tutto un esame di coscienza capire come mai l'uomo l'uomo e il maschio arriva alla violenza dovremmo farcela tutti anche noi che non siamo violenti noi non abbiamo mai alzato la mano nessuno dovremmo farla tutti perché sì perché perché c'è un motivo no? qualcosa ci deve essere l'euro psicologico dobbiamo farci un esame di coscienza tutti sempre fa sempre bene farci un esame di coscienza poi non servirà mai perché mai mai senz'altro faremo eh eh cose simili però facciamogli tutto un esame di coscienza cominciamo da qui sì dovremmo fare con la trasmissione magari un focus sui femminicidi però senza parlarne in modo morboso ma in modo un pochino più analitico diciamo e come poterne uscire anche perché il problema secondo me non so che ne pensi te ma è culturale cioè non penso che aumentando il pene si risolve niente è un problema proprio di natura culturale quindi non ne usciamo mai se non si investe nella scuola se non si investe nella formazione delle persone nel creare persone che siano proprio persone perché eh al momento che c'è lo stalker secondo me anche se te metti il reato di stalking è corretto ma al momento in cui esiste lo stalker è già troppo tardi secondo me no? cioè c'è già il seme eh di quello che può diventare un delitto è già noi ora parlando del mostro di Firenze ma anche parlando di cose noir in generale perché il titolo della trasmissione è quella che abbiamo affrontato diverse di queste questioni e altre magari ne potremmo affrontare e che ne leggiamo di tutti i colori e che vengono dalla storia in particolare dell'Italia ma anche delle altre nazioni lo vediamo già no? come fai a prevenire queste delitte? devi fare in modo che queste persone non si formino non si credono perché ci sono meno serial killer in giro? perché il seme che faceva nascere di serial killer è probabilmente venuto meno tanti nascono da diversi tipi di contesti sociali problematici ad esempio come negli Stati Uniti tanti problemi sociali e queste persone nascono da ambienti si dice criminogenetici cioè dove ecco diminuire quegli ambienti diminuisce la probabilità che si formino serial killer la stessa cosa per i femminicidi bisogna fare un grosso secondo me salto di qualità da un punto di vista culturale perché solo con regolamenti e leggi non si va da nessuna parte secondo me non so chi ne pensi no è culturale ma guarda la storia del mondo di Firenze in qualche modo si collega perché poi alla base c'è sempre un volere affermare se stessi con la prepotenza e non con il dialogo quindi è sempre questo poi la chiave la mancanza di dialogo che in questo paese c'è da sempre che poi la prepotenza è ovvio che poi a volte c'è chi subisce a volte c'è chi si chi si difende e chi si difende alla prepotenza è naturale che si difenda con ulteriori prepotenza con cosa deve fare con i fiori è normale cioè io su questo cioè sono molto cerco di essere più realista possibile no? se se gli operai della GKN vengono maltrattati umiliati perché comunque vengono gli viene regalato loro e quindi sfottuti gli viene preso regalato loro un giorno di lavoro e poi vengono licenziati con una mail come se fossero carne da macello questi non stanno alla regola questi occupano la fabbrica e dicono vieni vieni provo ad entrare a prendere ora non so se hanno detto questo questa è una mia interpretazione provo ad entrare a prendere i macchinari e vedi io sono qua almeno mi ci muovi vediamo un po' che succede hanno ragione è chiaro che la lotta questa poi nasce da una da una prepotenza di qualcun altro il caso del monstro di Firenze è figlio di uno voler affermare se stessi con la prepotenza cioè la matrice psicologica è la stessa ed è culturale certo è culturale è culturale e infatti è culturale di quei partiti politici anche esteri che finanziavano per affermare se stessi quindi la destra è culturale perché bene o male abbiamo in Italia tutt'oggi un'educazione che vuole metterci schiavi sofferenti col padrone se non un padrone comunque non voglio usare termini troppo inflazionate no? un dio una patria cioè siamo sempre subordinati a qualcuno no? e finché questo non cambia difficilmente hanno delle soluzioni o degli avvenimenti migliorativi i serial killer sono diminuiti senz'altro perché c'è stata una liberalizzazione del sesso per fortuna ma anche perché c'è questo non è non è stato fatto per diminuire serial killer c'è una tracciabilità delle persone tutti i serial killer anche vedo certo oggi il mostro di Firenze con le tecnologie di oggi il mostro di Firenze becchi in 20 minuti questo neanche fa tempo a fare il primo omicidio lo becchi subito quello pensa l'hai già beccato cioè quindi nel senso non è che voglio dire certo su questo punto di vista la società migliora è sempre migliorato io sono uno di quelli che sostiene la società vada migliorando anche se non sembra tornando alla musica la musica è specchio di una società e di un periodo storico di conseguenza far passare la scelta di passare le canzoni che più andavano in quegli anni lì anno dopo anno cronologicamente aiuta noi che ne parliamo e chi ci ascolta a entrare nel 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 mood no? di di quegli anni lì solo questo però ecco diciamo che è una situazione interessante anche per questo diventa una trasmissione interessante musicalmente poi io trovavo questo collegamento poi dimmi te se è corretto però passando la musica di quegli anni e comunque parlando anche un po' di musica abbiamo fatto spesso il collegamento con ad esempio alcuni stili e generi musicali che si creano in determinate zone del mondo in un determinato periodo e si potevano creare e formare soltanto lì e abbiamo detto anche che il mostro è un fenomeno fiorentino che è nato e poteva nascere per una combinazione di eventi perché tutti gli ingredienti erano in quel posto e poteva nascere soltanto lì ecco perché è importante secondo me fare un focus sulla storia dell'epoca sulla Firenze dell'epoca sulle persone che gravitano attorno a questa storia anche per capire come si ragionava all'epoca e perché se quel fatto è avvenuto a Firenze in quel periodo vuol dire che evidentemente gli ingredienti per farlo nascere erano tutti presenti lì questo diciamo anche la situazione geografica perché poi è chiaro con le colline ferentine sono bellissime particolari e difficilmente insomma facciabili facilitano l'appartarsi e facilitavano purtroppo anche gli omicidi quello che sì tante cose i sardi in quel momento lì diciamo che i tanti elementi hanno hanno contribuito anche a creare un po' la confusione si è creata anche il contesto storico città tranquilla quindi non c'è mai stato un dispiegamento di forze dell'ordine così pronto quindi indagini sbagliate quindi insomma scena secondo te se è successo a Roma ad esempio a Milano una città più attrezzata sarebbe stato più semplice sarebbe stato succedere a noi ti ricordi in quegli anni cosa c'è a Roma c'è una magliana in crescita c'è un partito comunista che si sta facendo l'alleanza con la democrazia cristiana un tentativo di cambio epocale storico c'è un politico che viene che viene rapito e poi ucciso non un politico a caso il presidente della democrazia cristiana è rapito e ucciso c'è un casino a Roma in quegli anni lì nella città di Roma un amicidio del genere viene a parte in città è difficile sfuggire agli occhi delle persone e poi con quel dispiegamento di forze mettene dintorni di Roma comunque mettene dintorni di Roma comunque ci sarebbe stato un altro tipo di di controllo secondo te o di aiuto una parte della malavita magari sai diciamo che i delitti dei mostri di Firenze avvengono in situazioni sociali tranquille serene non c'era grandi rivolte su Firenze su Roma è un clima molto diverso in quegli anni quindi è possibile che insomma fosse andata diversamente ma tu ma sarebbe tutta un'altra cosa le persone le persone stesse parliamo nelle varie teorie di quella dei Sardi ma i Sardi erano in Toscana per un motivo c'era anche un lavoro c'era lavoro nel test nella muratura magari a Roma c'era altri tipi di possibilità altri tipi di lavoro forse meno possibilità poi senz'altro qualcuno legato all'ambiente sardo probabilmente abitava anche a Roma però non è un caso che siamo venuti tutti tra Firenze senza andare a toccare Roma tra Firenze Prato dove c'è un'esplosione operaia importante una richiesta di mano d'opera importante e non a Massa Carrara non sono andati a Carrara non c'era lo stesso sviluppo e la stessa richiesta di mano d'opera c'era a Prato e a Firenze e quindi i Sardi sono venuti lì e qualcuno dei Sardi era legato all'anonema sequestri e nel primo vicidio del primo delitto c'entrano senz'altro qualcosa forse anche negli altri e già questo potrebbe essere uno spartiacque totale fondamentale senz'altro un ruolo in qualche modo anche marginale l'hanno avuto quindi nel senso erano qua fossero stati a Lucca sarebbe successo a Lucca se loro hanno un ruolo così fondamentale ma non solo il il mago indovino era era in questo ancora non ne abbiamo parlato ci sono tante persone dentro questa storia che sono tipicamente di qua con comportamenti tipici della Toscana quindi conoscono le piazzole conoscono la campagna e tutto quindi sì c'è una serie di elementi che hanno fatto in modo che è difficile pensare un mostro di Roma o un mostro di New York ecco anche la teoria esoterica mi viene da pensare che poi nasce successivamente probabilmente in un altro luogo forse la capitale dell'esoterismo italiana è Torino ma Firenze è nota per avere queste diciamo si parla di sette sataniche su Firenze con poca cognizione di causa però in generale se ne parla da sempre io mi ricordo da piccolo che mi raccontavano i miei genitori di chiese sperdute nelle colline dove venivano fatte messe nere quindi non si sa se è vero se è falso però comunque c'era questa sensazione in zona ci fossero queste sette quindi probabilmente anche la zona di Firenze ha portato poi a sviluppare questa teoria proprio perché avviene in questa zona qua per cui è fondamentale diciamo la zona fiorentina ecco tutto qui era un un volerlo specifico ci sono tante appunto tanti elementi poi non è che questo avrebbe escluso un mostro di Bologna è che magari avrebbe fatto altre cose certi guardoni c'erano anche a Bologna sicuramente non è che non è che sono solo a Firenze però sono tanti elementi uno è quello dei guardoni bene un altro un altro è anche la la facilità di indagare un contadino cioè la facilità di trovare dei personaggi goliardici al punto tale da creare anche un caso così c'è anche l'attenzione che è nata sul mostro di Firenze all'attenzione ha partecipato anche l'assurdità dei personaggi che compongono questa storia qua e sono tipicamente fiorentini cioè difficilmente trovi da altre parti quel tipo di particolarità quel quella tragedia che diventa comica e si trasforma in una tresciata allucinante tutti oggi ricordano le frate di Vanni Loddi Vanni e Pacciani ai processi e le ricordano con comicità anche qui lo scherzare sulla tragedia è una cosa tipicamente fiorentina cioè il mostro di Firenze durante gli anni del mostro di Firenze veniva chiamato così per sdrammatizzare cicci il mostro di Scandicci così cioè non è che si diceva cioè i fiorentini scherzano su tutto sulla luce del 66 il marasco ci ha fatto una canzone che prende per il culo Firenze stessa è comica fa ridere quindi tante le cose hanno friso senz'altro e senti parlando invece della prossima stagione chiediamo anche a chi ci ascolta però in generale oltre magari al processo vari processi che ci sono stati sul mostro magari potremmo fare anche un focus su altri casi su altri delitti non so se c'è qualcuno in particolare che vorreste affrontare ad esempio non abbiamo parlato di Minghella che è un serial killer che colpisce per l'appunto tra il 74 e l'81 cioè nell'arco di tempi in cui non colpisce il mostro colpisce Minghella nella zona di Genova ma c'è anche Donato Bilancia nei primi 2000 oppure casi più recenti ad esempio Iara non so se c'è un caso che te vorresti dovessi scegliere se il caso di Iara Gambiraso mi colpì quando avvenne e quindi senz'altro è un caso di cui mi piacerebbe parlare secondo me invece parlo dei casi futuri i casi passati futuri nel senso di anni che dobbiamo ancora cronologicamente dobbiamo ancora arrivarci invece di quelli passati ci sono un po' di abbiamo cercato di parlare più o meno di tutto però forse qualche focus indietro anche sui primi anni 90 su Mani Pulite parte Mani Pulite ci arriviamo adesso quindi diciamo ancora no però anche su Gardini su quello che stava succedendo prima che poi si collegherà con Mani Pulite anche ci sono alcune su Maniero la Mala del Brent ci sono un po' di situazioni in cui mi piacerebbe parlare e soprattutto è la mafia perché mi piacerebbe e anche se abbiamo parlato molto di Moro di quel caso lì vedere anche un po' lo stato d'animo e la visione della Sicilia un po' la storia di Peppino un passato che ho rivisto il libro mi ha acceso un po' la voglia anche di riparlare della mafia perché poi contemporaneamente noi abbiamo concentrati molto sul su quello che succedeva a Roma e perché diciamo aveva rilevanza nazionale ma sotto Roma in Sicilia eravamo tra la prima e la seconda guerra di mafia no eravamo in vicino alla prima guerra di mafia c'è stato un bel primo cambio dopo c'è stata la seconda guerra di mafia quasi a ruota e c'è stato un secondo cambio che si collega al 92 dove il 92 per mani pulite agili mafia e poi parlando del mostro di Firenze ci sono i primi cioè il processo Pacciani insomma i primi anni 90 del processo Pacciani quindi sarebbe interessante secondo me prima di parlare del processo fare un focus sulle strage di mafia il cambio e quindi ripartire dal 78 ma non lato moro lato peppino impastato ricordiamo sono stati uccisi lo stesso giorno sì c'è un altro caso che mi interessa molto però magari vediamo se troveremo il tempo mi interessa perché diciamo mio padre lo conosceva il rapimento e poi l'omicidio del bambino Ermanno Lavorini parliamo del 69 mi sembra quindi a Vecchiano a Marina di Vecchiano un omicidio che diciamo è un po' perso nel tempo poi venne accusato una comunità india addirittura della zona quindi fu un omicidio che all'epoca riscosse molto clamore poi si è un po' perso diciamo nei meandri della storia interessante perché mio padre lo conosceva bene questo bambino cioè erano amici con questo bambino e poi successe questo fatto diciamo che era successo durante l'inverno mio padre lo frequentava soprattutto d'estate e poi comunque dopo che fu ritrovato perché accadde mi sembra a gennaio ora vado a memoria comunque durante un periodo invernale fu ritrovato nella finita di Marina di Vecchiana anche quello è un caso un po' perso nel tempo ho visto un documentario poco tempo fa che passò sull'Rai e si intitolava se non mi sbagli il bambino dimenticato anche quello è un bel caso eventualmente di cui parlare ma noi faremo dieci stagioni di quattro non c'è problemi avremo il tempo per fare alla grande alla grande avremo il tempo di fare tutto comunque se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e vorrebbe un altro caso di cui non dico sono esperto ma ho letto tanto tanto e ho donato bilancia anche quello però qui lì siamo nei primi anni 2000 quindi magari arriviamo più avanti che tra l'altro donato bilancia è il serial killer più prolifico della storia d'Italia ha ucciso più persone del mostro di Firenze in pochi mesi cioè un pazzuolo di totale anche quello è un caso molto interessante comunque se chi ci ascolta siccome siamo in chiusura diciamo della seconda stagione se avete dei focus per la terza stagione e ci volete chiedere noi glielo accogliamo volentieri e quantomeno vediamo se possiamo accontentarvi non è detto perché non è che sappiamo tutto di ogni cosa però vediamo se riusciamo a parlare di qualcos'altro te Parretti mancano pochi minuti se vuoi in conclusione se mi permette una breve marchetta spero nel 2024 far uscire il mio primo disco di solamente di musica elettronica sì dove solista come? da solista quindi musica elettronica solo io dove ci sarà ho preso un recente sviluppo grazie usando come strumento l'intelligenza artificiale che sto studiando molto ci sarà dentro anche la sigla di White Noir e il disco lo dico in anteprima si intitolerà Journey of Discovery e si tratta di un viaggio interiore tutto trasformato in musica quindi è una cosa poco commerciale che non si filerà a nessuno e è proprio per questo che ci piace che noi siamo radical chic ci garba a fare tutti appunturati con la roba e non capisce un cazzo nessuno neanche chi la scrive come in ma io ti invito a usare il canale se lo vorrei promuovere anche come presentazione del disco visto che c'è esiste questo canale quindi su youtube secondo me è una piattaforma infatti poi youtube secondo me è una piattaforma piuttosto comoda è piuttosto libera rispetto ad altre piattaforme per me è la piattaforma di streaming migliore cioè si sta parlando di netflix amazon eccetera eccetera ma nei fatti la piattaforma di streaming migliore rimane youtube è vero che non ci sono serie tv sono tanti contenuti degli utenti però ad esempio sul mostro di firenze c'è di tutto e di più è inutile andarsi a vedere i documentari perché su youtube ma anche per la formazione io sto studiando tante cose sull'ia app proprio ascoltando degli youtuber che si occupano appunto di acqua sì sì infatti quindi per me youtube è veramente probabilmente il social media migliore in assoluto e non lo dico assolutamente perché perché vogliamo monetizzare da youtube visto che siamo ancora lontani a proposito ma vogliamo farlo ma vogliamo farlo questo cioè non è che guarda bravi loro non vogliono non lo fanno per soldi no no di brutto per soldi però ecco cioè riconosciamo anche la la bravura di youtube l'importanza di youtube ecco perché ricordiamoci sono persone che guadagnano sul mostro di firenze andando a fare le sedute spiritiche sulle piazzone ricordiamo quindi insomma noi non è che vogliamo monetizzare sul mostro di firenze perché semplicemente facciamo un podcast che non è poi solo su quello se ci riuscisse monetizzare perché magari sappiamo il motto capitalista vale se sai fare una cosa fatti pagare però qui c'è il merito quindi se delle persone si iscrivono e riconoscono il merito se youtube ci fa monetizzare è meglio semplicemente semplicemente questo non è che dobbiamo intanto abbiamo un lavoro per fortuna quindi non siamo costretti però se ci fosse verso sarebbe sarebbe molto bene bene dopo questa carità che stiamo chiedendo mancano cinque minuti alla fine del video non so se volevi aggiungere altro altrimenti lo chiudiamo qua semplicemente no io non ho altro da aggiungere anche perché ho parlato anche troppo abbastanza l'unica cosa ovviamente come dico sempre ascoltate i podcast che noi mettiamo nei link dei video perché è inutile che guardate questi approfondimenti su youtube che sono fatti così tanto per approfondire dei temi che abbiamo trattato meno ma il vero podcast lo trovate al link su white radio che io metto in descrizione ad ogni video quindi andate lì e ascoltate soprattutto il podcast che a noi ci fa piacere quasi più piacere che non se ci ascoltate su youtube anche se in realtà su youtube avete il vantaggio di poter vedere due facce che devo dire sono effettivamente belle quindi se volete godervi le nostre facce guardate youtube se volete godervi le nostre voci e la musica che passa partetti ascoltate il podcast detto questo ci risentiamo per ora altre parti non ne potete godere però esatto adesso vi salutiamo ci risentiamo a ottobre con gli ascoltatori con te pareti ci rivediamo prima di ottobre spero da un ben tante birre ancora io luglio ho 11 concerti quindi spero di arrivare vivo a agosto però ecco diciamo ma anche ora in questi giorni domani dopo domani se ci saranno io ci sono volentieri dopo domani sì domani ho un concerto domani ho un concerto va bene va bene benissimo noi salutiamo tutti speriamo che vi abbia fatto piacere questa seconda stagione di voi un saluto grazie e alla prossima alla terza stagione ciao